Ciao, sono Zana di Turbola.it, questo è il mio video aggiornamento settimanale sull'andamento di Bitcoin e delle criptovalute. Parleremo ovviamente di prezzo di Bitcoin, ma anche tante novità che hanno interessato le criptovalute in questa scorsa settimana, a partire da un attacco su Walton Chain, alcune novità a livello bancario e anche il depreciamento del dollaro. Se l'argomento ti interessa, come al solito, seguimi. Bene, partiamo subito dall'andamento dei prezzi, aggiorniamo la pagina così abbiamo i dati freschissimi, vediamo che nelle ultime 24 ore Bitcoin ha ritracciato un altro pochino perché ha perso un altro pochino di capitalizzazione. Per il resto ci sono come al solito molte monete in positivo, ma anche parecchie che sicuramente stanno perdendo tantissimo. Tra i peggiori Dent, BitShare, Chainlink che naturalmente aveva guadagnato tantissimo nei giorni scorsi e ora sta subendo un fisiologico ritracciamento. Bene, se guardiamo l'andamento dei prezzi nel corso della settimana, il mio ultimo aggiornamento era stato attorno al 23 e al 24, eccolo qua, è appunto Bitcoin, era attorno agli 11.000 dollari. Negli ultimi giorni poi è cresciuto ancora moltissimo, in particolare c'è stato questo massimo molto importante, attorno ai 13.800 dollari e poi abbiamo subito ad un ritracciamento veramente pesante nella giornata del 27 giugno scorso. C'è stato poi un ripreso dei prezzi, gli acquirenti, i buyer, sono riusciti a difendere questo livello, appunto a quota circa 10.700 dollari, ma poi di nuovo nel corso del weekend abbiamo assistito a una discesa del prezzo. La mia posizione per quanto mi riguarda non è cambiata rispetto a quello che dicevo nell'ultimo video precedente, ovvero sto ancora aspettando un ritracciamento molto più importante. Sicuramente è positivo il fatto che, come vediamo qui, vediamo se riesco a spostarmi un peletto, eccolo qua, eccolo qua. L'RSI è sicuramente rientrato dalla fase di ipercomprato incredibile, nella quale è stata per oltre una settimana, che era un aspetto che mi preoccupava parecchio, e ora siamo rientrati in un'area che sicuramente è più tranquilla. Questo rientracciamento sicuramente era fisiologico, ci sarebbe voluto, ma mi aspetto che ci scenda anche un pochino più in basso. In particolare la media mobile dei 21 giorni, in questo momento è posizionata qui, attorno ad area 11.000, però mi piacerebbe, se non altro, sarei più tranquillo ad acquistare bitcoin attorno a quest'area dei 9.000, cioè quando si sarebbe posizionato attorno e si sarebbe appoggiato attorno alla media mobile dei 50 giorni, che probabilmente fornirebbe un pochino di supporto in più, anche perché proprio attorno in quest'area abbiamo avuto questi supporti, già in passato abbiamo avuto almeno tre giorni di supporto, che non sono tantissimi, però sono sicuramente qualcosa. Naturalmente la speranza, la prospettiva è che bitcoin possa tornare attorno ad area 7.000, come dicevo nel mio video scorso, tra 6, 7, 8.000 sono tutti possibili punti di ingresso importanti. In questo momento la media mobile dei 100 giorni punta attorno agli 7.600 dollari, quindi questo potrebbe essere un punto di ingresso importante. Per quanto riguarda le previsioni, ovviamente ragazzi qui le sparano un pochino tutti come meglio gli pare. C'è questo analista, che sicuramente è tale Simon Peters di eToro, che parla addirittura di bitcoin che potrebbe raggiungere i 20.000 dollari nelle prossime due settimane per proseguire a toccare i 50.000 e addirittura i 100.000 dollari entro la fine dell'anno. Come dicevo anche nel video scorso, ognuno ragazzi la spara un pochino come preferisce. Francamente queste ipotesi mi sembrano possibili, ma come dire, non ci metterei la firma sopra, perché come sappiamo il mercato può essere molto incredibile. E in questo momento, come abbiamo visto, bitcoin già soffre un pochino di rintracciamento, quindi pensare che in solo due settimane possa appoggiare, trovare un nuovo supporto, per poi esplodere in modo così forte, sì, sicuramente è possibile, ma non mi sembra del tutto. Probabile. Ecco qua, c'è un'altra analisi che ho preso di questo analista di Think Markets, che parla invece, diciamo, si espone un pochino di più tra 60.000 e 100.000 alla prossima bull run. Ovviamente ci sarà un intermezzo, anche in questo caso si parla, un intermezzo tra 20.000 e 50.000 dollari prima di arrivare ai 60.000 e 100.000, ed in particolare, secondo l'analista, quello che gli fa pensare che il mercato criptovalutario potrebbe decollare così, in modo così forte e diretto, è il fatto che stiamo raggiungendo veramente dei massimi sui mercati azionari americani e si stanno già notando un pochino di segni di cedimento dell'andamento positivo di questo incredibile bull run che dura da più di 10 anni nel mercato azionario. In questo caso i capitali dovrebbero uscire dal mercato azionario e quindi, secondo l'analista qui di Think Markets, potrebbero proprio posizionarsi nel mercato delle criptovalute. Dicevamo, notizie negative invece per quanto riguarda Walton Chain. Nel corso del weekend, questa notizia qua appunto è di sabato 29, la rete Walton Chain ha subito un attacco, un attacco veramente importante che ha consentito ad un ignoto aggressore di portarsi a casa un sacco di monete, hanno minato alla velocità della luce sfruttando una vulnerabilità nel codice di Walton Chain. L'annuncio ufficiale, eccolo qua, è uscito durante la giornata di sabato, i ragazzi di Walton Chain parlano di un exploit nel codice, in realtà come sappiamo tutti noi programmatori, un exploit non è nel codice, ma c'è una vulnerabilità nel codice che viene sfruttata dall'exploit, per questo poco conta. Di fatto c'è stato un problema nel codice che ha consentito appunto l'aggressore di creare un sacco di monete con il mining alla velocità della luce. Come hanno pensato di risolvere i ragazzi di Walton Chain? Intanto hanno dichiarato che erano già a conoscenza di questo problema da un paio di settimane e stavano già correggendo la patch. Hanno deploiato la patch, però l'unico modo per annullare le transazioni e quindi di fatto tornare in una situazione di stabilità è stato fare appunto un hard fork. Quindi tutti i supporter e i miner regolari di Walton Chain sono stati invitati ad aggiornare e scaricarsi il codice aggiornato per continuare a fare mining. Ovviamente è una brutta notizia, non è la fine del mondo, anche perché in questo momento Walton Chain non è realmente ancora in produzione con dei volumi importanti di clienti che stanno effettivamente sfruttando la rete Walton Chain per gestire la propria logistica. Però ovviamente non è una buona notizia, di fatto c'è stata una svista, una vulnerabilità nel codice, non è mai una buona notizia. Ovviamente qui su Reddit si sono un pochino scatenati tutti, tanto hanno parlato molto male di Walton Chain, anche perché c'era ancora quel bruttissimo episodio nella mente di tutti che riguardava un'azione di marketing relativa a un premio che non era andata molto bene all'inizio del 2018. Di fatto sembrava ci stessero un po' giocando. Quindi di fatto gli amici di AR Cryptocurrency non hanno perso occasione per lanciarsi contro Walton Chain. Di nuovo fate un po' le vostre valutazioni, la vulnerabilità sicuramente era presente, l'incidente era successo, i ragazzi in questo momento hanno corretto. Bisogna un po' vedere come si evolve la situazione. Se rimane un incidente isolato probabilmente in questa fase in cui è embrionale e tutto in fase di crescita potrebbe non essere la fine del mondo. Un altro messaggio che mi sono segnato è questo, apparto sempre su AR Cryptocurrency, in cui in questo momento c'è questo ragazzo che si autodefinisce, questo utente che si autodefinisce, un programmatore che ha trovato un paio di cose che non vanno troppo bene in Chainlink. Sostanzialmente parla di mancata decentralizzazione della mainnet, in questo momento sarebbe una infrastruttura molto centralizzata, quella di Chainlink. Chainlink che come sappiamo è esploso di valore nelle ultime settimane proprio dopo l'annuncio di una partnership con Google e anche con Oracle stessa. Quindi il valore di Chainlink è cresciuto moltissimo. Il ragazzo dice che è centralizzato e il white paper per di più non spiega in dettaglio come sarebbe possibile decentralizzare l'aspetto degli oracoli che è un pochino quello su cui si basa e basa i propri servizi Chainlink e la propria utilità Chainlink. Ci sono state molte risposte, sicuramente è un dibattito abbastanza interessante. Ho trovato anche questa infografica che spiega l'andamento di Chainlink e in particolare smentisce una parte di quello che diceva il ragazzo. Una delle critiche infatti è che non sarebbe possibile verificare che gli oracoli dicano la verità. In realtà in questa infografica qua sotto si dice che fondamentalmente tutti gli oracoli sono tenuti a mettere come collaterale quindi mettere come garanzia le proprie monete Chainlink prima di poter esprimere il proprio voto e quindi trasferire l'informazione che un determinato evento del mondo reale è veramente accaduto e quindi è possibile scatenare l'esecuzione di uno smart contract. Questo collaterale depositato verrebbe perso in caso l'oracolo non si comportasse in modo corretto oppure fornisse informazioni false alla rete e quindi fondamentalmente questo costituirebbe un deterrente sufficiente. Di nuovo l'argomentazione del ragazzo non è del tutto sbagliata sicuramente potrebbe essere il caso di approfondire il white paper. Veniamo all'argomento, a un contro argomento il depreciamento troppo rapido di bitcoin. Se guardiamo questa infografica che riguarda il depreciamento del dollaro dal 1913 al 2019 quindi negli ultimi 100 anni circa che cosa è successo che sostanzialmente qui l'infografica parte dal 1913 dove un dollaro effettivamente valeva un dollaro per poi farci notare che nel corso dei decenni successivi il potere di acquisto di quel dollaro è precipitato tant'è che in questo momento il vecchio dollaro del 1913 varrebbe solo 0,05 centesimi quindi sarebbe un drastico calo nel potere di acquisto del dollaro. La fonte citata è una fonte ufficiale perché è una fonte di stato che riguarda l'andamento degli impiegati quindi sarebbe una fonte attendibile e ufficiale. Ovviamente se così fosse questo è una cosa che abbiamo già detto che le monete fiat tendono a svalutarsi nel tempo però visualizzarlo in questo modo sicuramente dà un impatto molto forte e lascia sicuramente molto spazio per l'adozione di una criptovaluta che non soffra di inflazione o di una valuta, di un metodo di impagamento che non soffra di inflazione quale potrebbe essere sicuramente blockchain dato che come ben sappiamo ad esempio bitcoin ha una quantità ha una total supply ben finita e quindi non è possibile stamparne di nuovi in continuazione e questo azzera il rischio che possa essere inflazionato come lo è il dollaro in cui invece in qualsiasi momento è possibile stampare nuove banconote senza neanche bisogno di mettere da parte l'equivalente in oro perché come sappiamo la riserva aurea è stato abolito quindi non è più necessario che gli stati accantonino quantità in oro equivalenti alle valute cartacee in circolazione. Bene, venendo da altre notizie notizie importanti Netflix sta facendo a quanto pare un documentario su bitcoin e un pochino su tutto il mondo delle criptovalute al di là di quale sarà il punto di vista del regista sicuramente è interessante perché esporrà il mondo delle criptovalute anche a tutti gli utenti che sono abbonati a Netflix e che magari in questo momento hanno sentito parlare di bitcoin ma non sanno bene di che cosa si tratti. Bene, vediamo altre due notizie importanti di fatto il CEO quindi il numero uno di Goldman Sachs ha annunciato, anticipato che le banche potrebbero iniziare a emettere i propri coin le proprie criptovalute proprietarie in modo non troppo dissimile da quanto ha fatto JP Morgan con il proprio JPM coin. Ovviamente sarebbe un risultato importante perché significa che le banche se non altro stanno adottando la tecnologia blockchain. Ovviamente mancherebbe tutto l'aspetto di decentralizzazione, perniciolence, imbloccabilità, resistenza alla censura è tutto quello che abbiamo detto tante volte che caratterizza le criptovalute come bitcoin però la tecnologia di fondo potrebbe essere adottata anche delle banche se non altro legittimando proprio il discorso della blockchain. Bene, parlando di JP Morgan il CEO Diamond che è stato uno dei più grandi detrattori di bitcoin tra la 2017 e il 2018 ha messo in guardia che di fatto tutte le criptovalute si stanno posizionando come dei veri concorrenti al sistema bancario tradizionale quindi non ha detto che siano concorrenti validi o non validi però il CEO di JP Morgan ha proprio riconosciuto come dei competitors se non altro come tecnologia dalle quale anche la sua azienda dovrebbe guardarsi e preparare una reazione di difesa. Bene, da Zanediturbla.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qui sotto fammi sapere cosa ne pensi della nuova mia maglietta arancione che mi è arrivata da pochi giorni se il video ti è piaciuto invece non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco al prossimo video ciao